Allora vabbè, non ci vanno a tentogeni clown a WB? Non è vero perché sta sempre con Aki. L'ho contagiato, sì, credo di sì, mi è stato contagioso, però avrei potuto prendere anche solo il pallet. Maremma maialissima. Ciao Mike, benvenuti in chat. Penso di sapere che versi. Ok, è contagiato. Perfetto. No, mi ha già dato il totem. Feels fucking bad, man. Perfetto, un blood favor value. Ah, non sarebbe cambiato anche niente senza blood favor. Peccato per il totem che gli ha spawnato nel cosmo. Che killer è? Non ricorda. La vomitina. La chiamo vomitina io, ma... Comunque buonasera caro, oggi sono un po' goliardico. Come mai? Che succe? Hai mangiato troppe goliador? Per questo è un po' goliardico, l'hai capito? Mi vedo a te il mio scoperto di me in piacere per te ovviamente. Chiaro. Benvenuto, come stai? Come stai? Si sono vomitati tutti. Non so per che cosa. Quello si sta davvero clansando? Se qualcuno andasse in broken adesso sarebbe... Ah, ma lei non è broken. Ora è in broken però. Ah, vuoi te la giù il pallet? Mi dispiace, non puoi. Ti vuoi dire ma è adesso vero? No, no, è... Vero, 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 non me lo ricordo. È la malattia però. Peggio delle mie battute, le mie fanno schifo sodo. Beh, mi sa che... Guarda, se rimani qua un po' mai, ogni tanto ci c'è certa gente che dice... Dice battutacce che... Non ci stanno niente niente, era. Stanno davvero clansando? Uh... Pazzi, maniaci. Non l'ho presa vero? No. Ho fatto il save. Ho preso per sbaglio col vomito? Mi sa di sì. Mi sa che nel mentre l'ho sputato l'ho preso per sbaglio, rip. Andiamoci questo. Se sono clansati là. L'unica cosa che odio della vomitina è che quando prendi il vomito rosso inizia a parlarti nel cazzo di orecchio. Io non sono una sega, lo odio. Lo fucking odio, letteralmente. Però nel tempo libero mi trasformo in prete. Beh, è un hobby particolare. Potersi trasformare in prete. Ah, sono tropea. Ogni volta che parla, poi mi sembra che dica a San Tropea. Mi sa dove cazzo stanno rattando. Questi sono dei rattini, si vede. Dove si è clansato. Qua si è clansata. 3 clans. Se si è clansata è meglio per me, Toss. Quindi... Mi piacerebbe se si è clansata. Ma Martial l'hanno creata in onore del Covid? No, credo che fosse prima. Dio, quanto cazzo urlano ovunque. Se vuoi andare nei parchi. Ho paura di chiederti a far che? Abbiamo il basement con il sangue vicino. È tipo una delle best cosa da fare. Però... Restare solo... Oh, l'ho visto. Nice. Se riuscisse a portare un altro nel basement, sarebbe easy win. Ah, che brutto questo amico che ha fatto. Ok. Non andrà nel basement, ma comunque... Tanto si clansano in fretta. Perché non posso vomitare lei. Comunque si sono vomitati in due, quindi è top. Do le gole d'arra alle prede e ci cascano. Oh no, mi dissocio. Volatoli un corvo. Direi che c'è qualcuno in questa zona. Probabilmente voleva non clansarsi a sta fontana. Una zanzarina di merda. Un moschino. Posso anche andare senza il vomito rosso in questo caso. Nice. E torni nel basement anche tu. Sei un pre... Nel tempo libero, esatto. Nel tempo libero. C'è una mela ed un'arancia che gioca una carta. La mela dice alla pera. Forza pesca. Va bene. Comunque appena ho fatto una partita sporchessa nel dredge dove li portavo nel basement e entrava nell'armadietta. Esattamente vicino a loro. E appena qualcuno entrava, lo sentivo e lo prendevo. Conta che ti vedono e ti sentono teoricamente dopo un po' che sei nel... Dentro l'armadio. Tipo dopo sette secondi fa tipo un rumore sonore, bling, e ti sentono. Dovrei andare a prendere il pentimento. Però il problema è che dalla parte opposta della mappa non c'ho assolutamente voglia. Quella è vomitata. Quella si è. Quella è andata in broken nell'esatto momento. Tra l'altro... Mentre ho vomitato sangue. Perfect. Perfection. Dopo otto secondi, sì. Hardest survivor, lo MMR. I don't... I don't know, Toss. Normally I found people with like... Between... Three and four thousand hours. So I don't know. Il progetto c'è, quindi pentiti. Oh, well. Oddio, c'è il counter cavetti. Sì, oggi non ne hanno scavettati. Normalmente ne fanno molti di più. Normalmente ne fanno molti di più. Guarda. Posso un commentare? Ah, raffica. Anche se non è vero, però. No, via. Probabilmente toglieranno il pentimento adesso. O almeno ci proveranno. Ma si troveranno un... Un incenso in faccia, stavo per dire, però. I mean. Mi cammini così in faccia. Adesso me lo toglie il pentimento, però. Worth. Cerco di non avvicinarmi in quella zona perché c'è ancora il totem. Sembra che non l'abbiamo trovato. Lei mi è mago? Yeah. But probably they ask for the... For the tanatofobia. That's my only opinion. Ti piacciono gli scheretti oltre che i parchi? Qua dovrebbe esserci ancora qualcuno nei dintorni. Perché comunque aveva fatto il save prima. A meno che non l'ha fatto il 4%. Ma dubito fortemente. Questa è ancora in regressione. Quella è in regressione. Lì ho un trigen. Forse dovrei difenderlo un pochetto di più. Eccolo qua. Qua c'è qualcuno, per esempio. Già, è buono. Uh, c'è qualcuno ferito qua. Andiamo per quello ferito. Chissà, per finire il gen, tra l'altro. Nice. Beh. By watching, by the way, streamer, you can learn a lot without having a lot of hours. So, hours, in my opinion, doesn't mean much. But a little bit should count. Honor to all, blood favor. Fuck. Mi ha blood favor. Ma secondo me stavano cercando blood favor, honestly. Perché dove l'hanno trovato adesso? Che cazzo ci fanno? C'erano lì. Stavano correndo a cercare blood favor, per forza. Non ci sono altri cazzi che tengono. Un signore parcheggia l'auto di divieto di sosta. Arrivano in... Arrivano la vigilia, sarebbero 50 euro. Ok, salga. Non ci sono di usare l'abilità in tempo. Però non l'ho aiutato. Fuck. Ah. Ah. Oh, ma che cazzo. Tessina di merda. Fatela vedere. Ma quante volte puoi mettere il rosco? Ogni volta che si puliscono dalla... Dalla malattia, Maxi. Che vedi che ci sono delle cose bianche. Vuol dire che loro si sono puliti su quella fontana. Quando si puliscono io posso prenderla. Fai il counter e quante dita salteranno questa notte in Apoli dopo la vita dello scudetto. Ah, io intanto mi dissocio da quello che hai appena detto. Questo non si è neanche reso conto cosa stava succedendo nella sua vita, probabilmente. Allora, ti rompe il counter. Ah, io mi dissocio. Ovviamente si parla di GTRP, ovviamente a roleplay. Ovviamente di che. Vediamoci il babbito rosso. Basta che seguiamo il sangue ed è easy win adesso. Segui il sangue. Ma cosa fai? So proprio a nasconderti. Su via. È molto goliardico, ci dissociamo. Esatto, io mi dissocio. Mi guardo abbastanza, però preferisco fermarmi dopo un paio. Sia per poterle dire più avanti. Sia per non stressare in tasaraccia. Guarda, guarda, c'è gente che ne spada tipo 20 al giorno, quindi... Thanks, Toss. Quando dico salga, non sempre. Sono sempre prete. Ok. Honest. Grazie. Grazie. Grazie.